buongiorno benvenuti nel mio nuovo canale quando si racconta una barzelletta o si fa un discorso politico per sedurre l'auditorio è come se si tentasse di comandare qualcosa è come se si tentasse di attuare di governare un processo che dipende esclusivamente da noi e nel momento in cui riusciamo a fare questo sperimentiamo una grande soddisfazione e ci sentiamo realizzati come posso dire come il tennista che mette a segno un colpo preciso proprio lì dove voleva nel rapporto nel rapporto amoroso c'è un momento in cui uno dei due partner sperimenta la sua onnipotenza la capacità di dirigere l'altro verso il piacere si sperimenta come l'artefice del godimento dell'altro la causa dell'estasi dell'altro ora però chiediamoci da dove nasce questo voler far dipendere la gioia dell'altro da noi stessi da dove nasce probabilmente fin da quando siamo stati bambini ci siamo trovati alle prese con la seduzione e abbiamo cercato in tutti i modi di accattivarci l'altro che in questo caso sono i genitori e lo facciamo per garantirci il benessere il nutrimento la sopravvivenza però non sempre riusciamo in questo difficile compito e molte volte veniamo rifiutati dagli altri e quindi finiamo per diventare poi con il tempo dei politici psicologici cioè persone alla ricerca sempre di consenso alla ricerca di approvazione di lodi o semplicemente alla ricerca di quel sì che i nostri genitori non ci hanno sempre donato e così come quando per la prima volta saliti sul motorino noi sperimentiamo la magnifica esperienza di venire trascinati da una forza sotto il nostro comando in un momento del rapporto amoroso ci sperimentiamo come gli artefici e quindi la causa la causa prima del godimento dell'altro ed è allora che ci sentiamo vivi utili ed è allora che la nostra vita acquista un senso un significato e quando tutto questo non avviene ci sentiamo spenti sconfitti delusi avareggiati e siamo costretti a mentire a noi stessi buona giornata grazie